L'ora X potrebbe scattare questa sera quando si accenderanno le luci nella villa di Monte Falcione, scenario dell'incontro tra Eziolino Capuano e Ida Agostino. In quella sede si deciderà con buona probabilità se i destini del tecnico di Pesco Pagano e quello dell'Avellino continueranno a camminare insieme o le strade si separeranno. Medesima domanda che in queste ore si sta ponendo Salvatore di Somma, che però pare avere più chance di restare in sella. A dire il vero, se mai la società volesse dar seguito all'Hastag da capo, dovrebbe appunto rifondare il progetto tecnico ricominciando da zero a costruire la squadra. Lo scopriremo solo attendendo il 10 luglio, è quella la data annunciata sui social. Venerdì dovrebbe venire fuori la verità dal sapore di futuro che tutti attendono. I tifosi sono curiosi di vedere come la nuova società imposterà la prossima stagione. In fondo, fino ad ora, per fattori incalcolabili ed esterni, D'Agostino non ha potuto far vedere di cosa è capace, quale fosse il suo progetto, ma ora è il suo momento. Le aspettative ovviamente sono tutte per tecnico e direttore sportivo, ma anche per la sede del ritiro e gli obiettivi. Mentre Sturno aspetta, ma ospita la Cavese dal 22 luglio al 13 agosto, i lupi dovrebbero affrettarsi a bloccare la data, se mai volessero accasarsi in Irpinia. In attesa di certezze ovviamente impazza il fantamercato, la permanenza di Di Somma come di esse potrebbe aprire la strada ad alcuni tecnici interessanti, a partire da nomi altisonanti come Euteri, Camploni o Scienza, ma anche Antonino Asta, collaboratore di Longo a Torino. Al contrario, in caso di arrivo di Trinchera, ci potrebbe essere spazio per Baglia o Calabro. Suggestiva anche l'idea di Pecchia, l'ex tecnico della Juve Under 23 potrebbe essere un profilo giovane ed interessante da cui ripartire.